Allora, partiamo dalla definizione, perché dal mio punto di vista tutto quello che le persone sanno sulla legge di attrazione è sbagliato, o almeno proprio dalle definizioni ci sono degli errori. Quindi questa definizione che adesso vi andrò a leggere io vi consiglio proprio di scrivervela e di rifletterci su perché in realtà contiene quasi tutto. La legge di attrazione fa sì che ogni persona attiri a sé, in base alle sue convinzioni e sentimenti ricorrenti, gli eventi più utili alla sua evoluzione. Perché, come vedremo tra un po', tutte le leggi universali, tutte quante, servono la nostra evoluzione, esistono per questo. E la legge di attrazione fa sì che ogni persona, in base alle sue convinzioni e ai suoi sentimenti ricorrenti, attiri gli eventi che più gli servono per la sua evoluzione. Facciamo un'altra precisazione prima di vedere quali sono i sette errori. La legge di attrazione è una legge secondaria. Perché? La legge primaria è la legge della vibrazione. La legge della vibrazione afferma che tutto nell'universo è in costante movimento. La legge di attrazione, invece, afferma che le vibrazioni simili si attraggono. In molti video sul web dove si parla di legge di attrazione oppure di leggi universali, si affermano che certe leggi sono leggi universali, quando in realtà sono, sì, delle leggi universali, ma sono delle leggi secondarie, non sono delle leggi primarie. Questo è importante. Tra un po' capirete il perché. Partiamo dal vedere qual è il primo fraintendimento, qual è il primo errore che viene commesso. Le persone dicono è impossibile che io ho attratto certi eventi per il semplice motivo che io non li volevo. Danì, la prova scientifica del fatto che la legge di attrazione non esiste è che io certi eventi non li volevo. Io non volevo che un mio amico tradisse la mia fiducia, non volevo che le cose mi andassero male. Perciò è impossibile che esiste la legge di attrazione. Qual è il problema qui? che la persona che dice questo non ha capito che è l'inconscio a mettere in atto la legge di attrazione, non la parte conscia. È chiaro che la parte conscia di qualsiasi persona vuole solo cose belle, cose stupende, vuole successo, ricchezza, amore, felicità, eccetera. Ma il punto è che la parte conscia è importante alle sue funzioni, ai suoi ruoli, deve essere gestita, assolutamente sì, ma ad attivare la legge di attrazione è il contenuto del tuo inconscio. Se vogliamo essere più tecnici del tuo subconscio, cioè dell'inconscio medio. La parte conscia è chiaro che vuole certe cose, ma poi bisogna vedere che cosa vuole il tuo inconscio. Quando si dice che tu crei la tua realtà, quel tu a cui ci si riferisce non è la tua parte conscia, perché la tua mente conscia è solo un piccolo frammento di tutto il tuo essere. È un piccolo frammento. Poi è importante gestirla, assolutamente sì, però il tuo inconscio è infinitamente più vasto, più potente, più saggio della parte conscia. Qui ho messo l'immagine dell'iceberg, che rende bene l'idea, dove la parte sommersa rappresenta l'inconscio e la parte sopra l'acqua rappresenta la parte conscia. Faccio giusto un esempio. Magari tu a livello conscio vuoi più ricchezza, ma a livello inconscio ci sono delle convinzioni limitanti sul denaro. Oppure a livello conscio vuoi ricevere più amore, oppure vuoi un certo partner, ma a livello inconscio qualcosa te lo impedisce. Quindi la parte su cui andare poi a lavorare è la parte inconscia. Quando qualcosa viene accettato dal subconscio viene per forza trasformato in una realtà pratica e materiale. Facciamo degli esempi su questo perché questo punto è molto importante. Se tu ti ricordi qual è il procedimento con cui hai deciso di acquistare un qualsiasi oggetto, facciamo un paio di scarpe, quello che tu hai fatto è la prima volta ci hai pensato, la seconda volta ci hai ripensato, la terza volta ci hai pensato in maniera emotiva, pensando a quel paio di scarpe ti sei emozionato, questo ha fatto sì che poi nel tempo tu sei andato effettivamente in negozio per acquistare quel paio di scarpe. La differenza tra la prima volta in cui tu hai pensato ad acquistare un nuovo paio di scarpe al momento in cui tu sei davvero fisicamente andato nel negozio per acquistarlo, la differenza sta nel fatto che quel contenuto, quell'idea è passata dalla mente conscia alla mente subconscia. Poiché è il subconscio che muove il corpo, nel momento che una qualsiasi idea viene accettata dalla mente subconscia, il subconscio fa di tutto, usa le leggi universali, usa le altre persone, usa la conoscenza che hai, prende in prestito la conoscenza degli altri, fa qualsiasi cosa in suo potere e di potere ne ha abbastanza per far sì che quell'idea venga trasformata in una realtà pratica e materiale. Perciò il rapporto è questo, la mente conscia sceglie i progetti, le idee che vuole trasformare in realtà e il subconscio, poi, e questo è il suo compito, trasmuta quelle idee in una realtà pratica e materiale. Come fai a capire che, per esempio, se fai un lavoro di riprogrammazione su di te, quel lavoro sta funzionando? Lo capisci dal fatto che, come prima cosa, cambiano le tue azioni. Le tue azioni ricorrenti si modificano. Questo ti dà un buon indicatore. Io controllo qui dei commenti e andiamo avanti. Secondo falso mito. Credere che la realtà venga creata quando invece la realtà viene manifestata. Questo non è solo un errore linguistico, perché dietro a questo errore c'è proprio una visione errata di come funziona la realtà. Tutto quello che tu puoi desiderare, che sia amore, felicità, ricchezza, successo, potere, eccetera, sono stati di coscienza ed esistono già. La ricchezza esiste già. Non la devi creare. La ricchezza esisteva anche nel Medioevo ed esisteva anche nel 20 prima di Cristo ed esisteva ancora prima, così come esisterà anche fra mille anni. Qualsiasi cosa esiste già perché noi ci troviamo nella terza dimensione. Poi, sopra la nostra dimensione c'è la quarta dimensione che è quella del tempo. Sopra la quarta dimensione ci sono altre dimensioni dove le cose esistono già. Tutto quello che tu puoi mai pensare, immaginare, creare esiste su un piano dimensionale più alto di questo ed esiste al di fuori del tempo e dello spazio. Quello che accade è che tu non devi creare la ricchezza, l'amore, la felicità, il successo e qualsiasi cosa desideri. Tu devi sintonizzarti con queste cose che esistono già. Guarda la differenza. Se tu dici io devo creare questo risultato ti arriveranno dei dubbi. In te ci sarà l'idea ma cavolo ce la farò a creare questo risultato sono abbastanza capace ci riesco, non ci riesco. Ma se tu invece dici io devo solo sintonizzarmi con questa cosa che esiste già certo non sul piano fisico ancora però esiste già è molto diverso perché tu sposti l'attenzione dal mondo esterno devo creare questa cosa facendo tante azioni al tuo mondo interno capendo che per sintonizzarti con un certo risultato tu devi gestire sempre meglio i tuoi pensieri e le tue emozioni è molto diverso perciò mi raccomando la realtà per quella porzione che ti serve raggiungere è già finita in un piano dimensionale superiore a questo tu devi sintonizzarti con quel piano non devi creare qualcosa dal nulla in quanto tutto esiste già anche se la tua situazione desiderata è così distante da ciò che tu vuoi ottenere il tuo sogno esiste già perciò proteggilo da dubbi e paure e ricordati che tutto è uno stato di coscienza qualsiasi cosa è per la coscienza una sorta di abito come questa sera toglierò la camicia e la giacca con molta facilità stessa cosa fa la coscienza che sia la ricchezza che sia il successo che sia il fallimento che sia la povertà indossare un abito per la coscienza è una cosa molto semplice come fai a decidere quale abito indosserà la tua coscienza lo fai tramite i tuoi pensieri ricorrenti e i tuoi sentimenti questo lo approfondiamo tra un po' qui ho messo una slide più tecnica anche se qua c'è un errore grammaticale il tuo subconscio dà forma ai tuoi desideri solo quando tu senti che il tuo desiderio è già realizzato per questo vi dico questa è la citazione di Gesù chiaramente frase non detta da me tutto quello che chiederete nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà perché la fede ti permette di attingere ad un piano dimensionale superiore a questo terzo fraintendimento divulgare i propri obiettivi questo è un errore madornale c'è tutta una grossa casistica di formatori che invitano per essere motivati a raggiungere il proprio obiettivo a parlarne con tutti in maniera tale loro dicono che prendi un impegno pubblico e ti sentirai a disagio se poi non fai quella cosa questo è sbagliatissimo solo una persona ignorante può affermare questa cosa divulgare i propri obiettivi è sbagliato tu devi tacere e farti fatti tuoi non devi dire a nessuno quali sono i tuoi obiettivi poi chiaro se tu hai al tuo fianco un amico un partner un amante un vicino di casa che può capirti e può sostenerti e non è invidioso allora in quel caso tu puoi andare a divulgare quelli che sono i tuoi obiettivi ma se tu non fai una selezione e parli dei tuoi obiettivi a tutti li stai commettendo un gravissimo errore sul piano sottile i dubbi le invidie che le altre persone nutrono nei tuoi confronti e anche i dubbi che loro nutrono sul fatto che tu possa farcela oppure no distruggono il tuo progetto è come se tu hai una piantina e questa piantina la metti in mezzo ad un uragano non hai fatto una grande cosa l'hai solo distrutta perciò devi proteggere i tuoi progetti non parlarne con tutti se c'è un progetto soprattutto importante ambizioso che tu stai cercando di raggiungere taci non dire a tutti quello che stai facendo se una persona ti chiede ma tu che cosa stai facendo in questa fase della tua vita nulla non sto facendo una beata mazza però non dire è meglio che tu passi come un nulla facente da questo punto di vista è molto meglio che tu dici che non fai nulla piuttosto che condividere i tuoi obiettivi con altre persone che non possono capirti che non sono in linea con te che non hanno la tua stessa visione della vita è mille volte meglio tacere ho perso il conto di quanti progetti sono andati a finire in cimitero per il semplice motivo che la persona che li voleva realizzare ne ha parlato con tutti fai una selezione io ho amici parenti familiari eccetera a cui posso dire tutto ma ho anche amici conoscenti familiari eccetera a cui è meglio non dire nulla ed è così per tutti fai una selezione parla dei tuoi progetti solo con chi può capirti davvero per esempio se sei in coaching con me e mi parli del tuo obiettivo è chiaro che io voglio che tu lo raggiungi perciò lo puoi fare se hai un partner che si interessa anche lui di crescita personale a livello teorico puoi dirgli tutto però se ti rendi conto che tra te e le persone che ti circondano c'è proprio una differenza nel modo di vedere la vita e in altro non divulgare tutti i tuoi progetti mi raccomando mi sto soffermando di più su questo punto perché è un errore molto diffuso molto diffuso purtroppo ma è così i tuoi progetti diceva Andrew Carnegie li devono conoscere solo tu e Dio li dovete conoscere tu e Dio e basta quarto fraintendimento credere che la legge di attrazione non serva all'evoluzione questo è sbagliato perché mentre lo scopo della tua mente ma in realtà di tutta la tua personalità quindi sia del corpo fisico del corpo emotivo e del corpo mentale il loro scopo è farti sopravvivere lo scopo primario del tuo inconscio è farti evolvere tutto quello che fa il tuo inconscio lo fa per farti evolvere c'è una frase di Gesù che dice siate perfetti come perfetto il padre vostro qui c'è racchiusa veramente tutta una scienza perché l'inconscio punta a farti esprimere sempre di più le qualità del tuo sé superiore che è perfetto perciò tutte le qualità che il tuo sé superiore ha il tuo inconscio ti spinge poco a poco ad acquisirle questo vuol dire che qualsiasi evento vivi è l'evento che più ti serve per la tua evoluzione per farti evolvere il tuo inconscio fa sì che tra due possibili eventi magari uno bello e uno brutto tu vivrai quello che più ti serve per la tua evoluzione chiaro che come ho detto prima leggendo la definizione tutto lo decidi tu a livello inconscio in base a pensieri ed emozioni ricorrenti però tra due eventi tu vivrai quello che ti è più utile questo vuol dire che non è possibile che tu viva un evento che non è utile alla tua evoluzione quando venite in coaching e dite io ho perso il lavoro com'è possibile l'hai perso perché quel lavoro non ti serve più per la tua evoluzione quando dite io mi sono lasciato col partner sono disperato è normale quel partner non serviva più alla tua evoluzione quando dite io ho perso del denaro vuol dire che per la tua evoluzione era meglio perderlo quando mi stoppo con gli esempi però applicalo tu alla tua situazione al tuo contesto io ti posso dire 99% degli uomini che vengono in coaching lo fanno per migliorare il rapporto col denaro vogliono avere più successo vogliono migliorare nella carriera nel business in generale mentre le donne 99% vengono in genere per migliorare le loro relazioni poi c'è chiaro anche la donna che viene per il business però in linea generale le donne preferiscono le relazioni gli uomini il denaro qual è il punto? che tu qualsiasi sia il tuo obiettivo non puoi mai vivere un evento che non è utile alla tua evoluzione non può succedere che tu ti lasci con un partner oppure perdi del denaro o lo guadagni senza che questo sia l'evento più utile per la tua evoluzione non è possibile tu puoi evolvere poi o nella gioia oppure nella sofferenza questo lo decidi tu però se tu lavori su di te solo quando le cose ti vanno male tu evolverai nella sofferenza questo lo vedo accadere spesso le persone leggono libri fanno un percorso di coaching si pongono domande guardano video cercano di migliorare quando le cose gli vanno male che è una cosa assurda perché è come se una persona andasse in palestra solo quando sta male se ha la febbre va in palestra quando guarisce sta bene e quindi potrebbe darci dentro no lui là si stende sul divano e non va in palestra sarebbe una cosa stupidissima eppure ciò che accade nella vita delle persone le persone lavorano su di sé quando soffrono e questa cosa non ha senso perché tu quando soffri dovresti farti forza di tutto il lavoro che tu hai fatto su te stesso quando stavi bene e lì applicare quello che tu ormai già padroneggi ma se tu fai un percorso di coaching quando stai male a parte che non avrà la stessa efficacia ma poi ti risulterà tutto più difficile perché un conto è imparare a guidare l'auto quando la macchina è ferma ma un altro è imparare a guidare l'auto se te la danno a 300 km orari davanti a difficoltà a problemi a sofferenze è più difficile gestire se stessi in quei momenti tu devi farti forza grazie a tutto il lavoro che hai fatto su di te quando le cose ti andavano bene il mio consiglio è lavora su te stesso tutti i santi giorni sia quando le cose ti vanno bene sia quando le cose ti vanno male ma soprattutto quando ti vanno bene dacci dentro noi abbiamo come azienda avuto nel periodo del covid una quantità enorme di richieste di persone che volevano videocorsi libri consigli volevano fare dei percorsi di coaching persone che sono sparite dopo il periodo del covid ora se queste persone sono andate da altri va bene vuol dire che comunque stanno lavorando su di loro però ti posso dire perché conosco tante persone che fanno un mestiere come il mio che in tutti è successo questa cosa qui hanno visto proprio un picco di richieste nel periodo di sofferenza quando la sofferenza è diminuita le persone hanno smesso di darci dentro e lavorare su di sé questo è un errore poi altri modi diffusi con cui una persona costringe la vita a farlo evolvere nella sofferenza sono lamentarsi spesso non gestire i propri pensieri e le proprie emozioni il punto è che la vita vuole che tu evolva ora tu puoi con le buone evolvere altrimenti evolverai con la con la sofferenza le leggi universali servono l'evoluzione tutto deve evolvere in natura tutto ciò che non cresce muore questo dimostra che c'è una sorta di ordine sottostante al creato che spinge le cose a mutare per evolvere sempre di più maggiore evoluzione questo è lo scopo della vita quinto errore quinto fraintendimento molto diffuso il credere che una persona debba provare sempre e solo emozioni positive questa è una cavolata enorme le persone cosa fanno quando provano degli stati d'animo negativi li rifiutano li combattono e questo fa sì che li spingono nel loro inconscio da lì per legge di attenzione queste emozioni attireranno eventi negativi perciò non è vero che se tu provi paura crei una realtà di paura se tu provi paura e questa paura tu l'accetti la osservi senza giudizio senza criticarla senza commentarla ti rapporti in maniera corretta a questa paura tu stai intervenendo in maniera corretta sul tuo mondo interno e il tuo mondo esterno non può riflettere degli eventi di paura ma se tu provi paura questa paura la rifiuti non la vuoi la spingi più in profondità nel tuo inconscio questo creerà un evento legato alla paura perciò vivrai un qualcosa che ti porterà a provare paura che sia che ti rubano il portafoglio che ti entrano i ladri in casa che fallisce la tua azienda non lo so però il non accettare il non rapportarti correttamente agli stati d'animo negativi fa danni perciò il danno non sta nei sentimenti negativi in sé sta nel modo sbagliato in cui ti ci rapporti il giudicare le emozioni il criticarle l'analizzarle fa sì che queste emozioni ritornano nell'inconscio e li diventano più forti e poi attirano certi eventi se vuoi intervenire devi imparare a non reprimere prima di tutto le tue emozioni negative e devi capire che in te ci sono entrambi gli opposti in te c'è sia la saggezza ma anche l'ignoranza c'è sia il coraggio c'è anche la paura c'è sia l'amore e c'è l'odio c'è tutto più tu accetti entrambi gli opposti più tu ti fai da parte e semplicemente osservi queste polarità che ti abitano queste energie che abitano la tua personalità meglio è perché se tu ti identifichi solo con un polo attirerai tanti eventi negativi che ti vogliono mostrare queste parti in ombra che tu di te non accetti ricordati che l'inconscio non è fatto solo del subconscio l'inconscio è fatto anche dell'inconscio inferiore e l'inconscio inferiore è la sede delle tue ombre perciò tutte le tue ombre tutte le parti di te che non accetti che critichi che rifiuti vanno a lavorare con la legge di attrazione a creare la tua realtà perciò fatti furbo impara a gestire le emozioni negative in maniera migliore sesto errore sesto fraintendimento io adesso do un attimo un'occhiata ai commenti io vedo tutto indifferita quindi qualche commento mi arriva dopo però va bene ok tutto chiaro bene sesto fraintendimento le persone dicono questo che ho vissuto io non lo volevo però ora uso la legge di attrazione e cambio non esiste questa cosa questa è una grande illusione perché tu puoi o ragionare da vittima nella tua vita o ragionare da creatore degli eventi se tu ragioni da creatore da colui che sa che manifesta la sua realtà tu hai anche il potere di cambiarla però se tu dici la situazione in cui mi trovo adesso io non l'ho voluta e adesso cerco di cambiare stai ragionando da vittima e il ragionare da vittima non ti dà potere quando tu ragioni da vittima non hai l'energia la forza il fuoco necessario per cambiare quell'aspetto della tua vita se ragioni da vittima tu non hai potere per avere potere devi ragionare da creatore devi dirti sono io che ho manifestato questo evento magari non so come l'ho creato a livello inconscio va bene però me ne chiamo responsabile questo passaggio è determinante perché tu già adesso stai applicando la legge di attrazione tutto quello che tu vivi adesso in questo istante è già frutto della legge di attrazione perciò il partner che hai quanto guadagni la città in cui vivi le persone con cui ti trovi tutto quello che ti piace eccetera viene già adesso in questo istante in questo momento determinato dalla legge di attrazione perciò se vuoi modificare un qualcosa tu devi ragionare da creatore devi dirti io ho scelto a livello inconscio questo evento adesso lavoro su di me cambio me stesso per cambiare anche l'esterno però se tu ragioni da vittima e ti dici no io questo non l'ho voluto non hai potere perché nelle coaching le persone mi chiedono ma quindi tu vuoi dire che se una persona viene picchiata dal partner viene buttata in un cassonetto poi la rapiscono gli alieni poi lo buttano a mare e poi lo prendono un sommergibile fate tutte domande complicate per poi alla fine chiedere vuoi dire che è sempre lui che l'ha creato sì la risposta è sì non può accadere nulla nella tua realtà che non sia stato tu a crearlo poi che l'hai creato a livello inconscio questo non ho dubbi è chiaro che a livello conscio e consapevole nessuno vuole vivere certi eventi l'abbiamo visto prima però non vi complicate la vita entrando in dinamiche del tipo ah tu vuoi dire che anche in quel caso è lui che l'ha creato sì è un principio universale non scappi tu crei la tua realtà punto però prima lo accetti e inizi a vedere la vita da questa prospettiva prima hai il potere anche per cambiare se ragioni da vittima non hai potere quando ragioni da creatore nel tuo inconscio avvengono delle trasformazioni importanti l'inconscio si mette a posto da solo se tu ragioni nella maniera corretta questo modo di pensare però deve essere mantenuto non puoi ragionare alle volte da creatore altre volte da vittima e considera che nell'inconscio collettivo chi lavora per l'ombra fa dei riti particolari per immettere nell'inconscio collettivo delle forme pensiero negative delle forme pensiero legate al fatto che la realtà viene creata a caso questo è voluto si vuole una popolazione che creda che le cose accadono a caso perciò o tu proprio ti impegni nel dire da quando mi sveglio a quando vado a dormire lavoro per ragionare da creatore o semplicemente tra i mass media tra le altre persone che incontri tra quelle cose strane che accadono su questo pianeta a te arriveranno dei pensieri tu crederai di aver prodotto tu quei pensieri quando in realtà sei stato indotto a pensare certe cose perché sul piano mentale non c'è una separazione come avviene nel piano fisico sul piano mentale o tu ti alleni a dominare i pensieri oppure sei succube dei pensieri della massa perciò o ti alleni o se ne guai non so come dirlo in maniera diversa resta il settimo errore e poi rispondo alle domande prima mi prendo giusto due secondi per dire che se vuoi imparare tutto quello che ti serve sapere sulla legge di attrazione sappi che puoi approfondire questo tema nel videocorso subconscio vincente dove impari a focalizzare i tuoi pensieri le tue emozioni per attirare ciò che desideri trovi degli esercizi pratici per iniziare il tuo viaggio di manifestazione trovi il gruppo di supporto privato dove rispondo io puoi farmi tutte le domande che vuoi inerenti questo tema il videocorso dura quattro ore e in più c'è l'ebook di Neville Goddard dove io parlo di cinque leggi cinque principi usati da Neville spiegati in maniera semplice ed è un ebook di circa cento pagine considera che il videocorso dura quattro ore proprio perché l'avevo creato per fare in modo che una persona possa riguardarlo spesso non è come gli altri videocorsi che durano uno venti ore l'altro ventotto con i bonus dove lì per guardare venti ore di videocorso ti devi proprio prendere un impegno parliamo di sole quattro ore però c'è tutto quello che ti serve cose impari ricapitolando trovi il metodo per manifestare i risultati che vuoi esercizi pratici per modificare il tuo subconscio come usare la legge dell'attrazione a tuo vantaggio e tutto quello che ti serve sapere sull'argomento questo videocorso è in offerta fino al 7 marzo per 295 euro se sei interessato trovi il link dal link puoi acquistarlo direttamente poi se hai dubbi o domande ti basta scrivere a info chiocciola dritto alla meta punto it e naturalmente puoi prenotare una telefonata oppure puoi fare dubbi e domande per capire se il videocorso fa per te riprendiamo vedendo il settimo errore non distinguere le emozioni dai sentimenti emozioni e sentimenti sono due cose diverse ne parlavo nel mastermind facevo questo dicevo questa cosa qua le emozioni sono passeggere tu provi rabbia adesso fra due minuti non la provi più l'emozione deriva da un termine che vuol dire movimento è un'energia che si muove in te provi una certa emozione tra poco non la proverai più i sentimenti invece durano per più tempo si protraggono di più nel tempo il sentimento che provi nei confronti di tuo figlio del tuo partner della di una cosa che ti piace particolarmente è un sentimento che si protrae nel tempo una madre non vuole bene a suo figlio per due minuti gli vuole bene per tutta la vita poi dipende che madre dipende ok però a livello teorico i sentimenti durano per più tempo il sentimento che ti collega a tua moglie o a tuo marito dura vent'anni ok o magari tutta la vita mentre l'emozione è una cosa più ristretta quello che tu devi fare non è tanto creare una certa emozione per esempio ti senti grato adesso e basta tu devi creare un sentimento di gratitudine è una sorta di emozione ricorrente ciò che crea la tua realtà ciò che la cambia ciò che la plasma sono i tuoi sentimenti i sentimenti non sono le emozioni le emozioni chiaramente sono un inizio ma poi il lavoro deve essere più profondo e soprattutto deve essere più intenso quello che tu devi fare è prendere una certa emozione un certo stato d'animo e provarlo in maniera ricorrente questo cambia poi la tua realtà perciò il sentirti ricco una volta non cambia la tua realtà sentirti ricco come sentimento dominante questo cambia la tua realtà stessa cosa per la gratitudine sentirti grato una volta non fa granché sentirti grato in maniera ricorrente nel tempo questo sì che cambia la tua realtà perciò mi raccomando ciò che cambia la tua realtà sono i tuoi sentimenti se vogliamo possiamo dire anche le tue emozioni ricorrenti non le tue emozioni e basta emozioni ricorrenti sentire è il segreto diceva il grande neville goddard ma in alcune traduzioni il suo titolo viene tradotto con l'emozione è il segreto e no l'emozione non è il segreto sentire il segreto che è una cosa ben diversa allora siamo arrivati al punto delle domande e risposte fatemi pure tutte le domande che volete io mi riprendo tutto lo schermo e risposte e risposte